Qui da qualche parte ci dovrebbero essere le famose sette stelle, eccole lì, guardatele, le vedete? Le sette stelle? Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, mamma mia, eccole, eccole là sopra, le vedete là? Guardatele, si sono tre, sei, sette, mamma mia, da qua si vedono, non mi sa di no eh No, non so manco dove devo guardare E quelli ragazzi sono i sette, avete visto bene, quelli sono proprio i sette, sono sette stelle, ovvero i sette, i sette sono sette e quelle sono le sette stelle Prima però di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like e condividete il video con tutti i vostri amici per farli sapere questa cosa Eccoli qui i sette, abbiamo fondazione, immagine, lo scienziato, origine, paradigma e ordine e ho messo anche Jones Ragazzi anche Jones comunque non fa parte dei sette ufficialmente ma è un loro amico, loro aiutante, dite come cavolo vi pare Però Jones aiuta i sette, ne manca uno, ovvero il visitatore, lo so ragazzi purtroppo il visitatore io al tempo non l'ho sbloccato in season 4 del capitolo 1 Non ho fatto le missioni, ero piccolo non sapendo manco cos'erano le missioni tra un po', non l'ho fatte Quindi purtroppo non ho la skin, magari se in futuro uscirà una nuova versione tipo paradigma che è uscita Magari lo prenderò, anzi non magari, lo prenderò sicuramente Allora, dobbiamo un po' fare un punto di... cioè dobbiamo capire un po' che fine hanno fatto tutti i sette Allora sappiamo, abbiamo visto con i nostri occhi che lo scienziato, origine e il visitatore sono stati catturati dall'araldo con il cromo Ve lo ricordate nel trailer della scorsa stagione? Ecco, sono stati catturati e loro erano sotto il controllo dell'araldo Non sappiamo dove, non sappiamo cosa li faceva Il punto è che erano sotto il controllo dell'araldo Quindi tutti e tre fuori gioco Avevamo paradigma che era entrato nel punto zero ed era andato nella realtà 659 Immagine e ordine Io ragazzi non ho avuto, cioè io non, vi giuro, mi sono informato Sia sull'informazione che abbiamo attualmente, sia su quelle precedenti, sia su quelle di quando è arrivata ordine Ragazzi, di ordine non si sa nulla L'unica cosa che sappiamo di immagine e di ordine è che sono sorelle Sono sorelle e sono figlie di Geno Quindi scopriremo sicuramente in futuro, durante il corso di questa stagione o della prossima Loro sono delle copie delle figlie originali di Geno Geno aveva delle figlie che erano loro Ma queste due sono delle copie, infatti sono delle copie buone Infatti sono con i sette Nei fumetti dicono che immagine è morta entrando nel punto zero Ordine non si sa nulla però, ordine non si sa nulla Immagine dicono che è morta nei fumetti Ma i fumetti, quelli lì, Zero War Sono un what if Come hanno detto tutti, sono un... Cosa sarebbe successo se la Marvel fosse entrata nella storia di Fortnite? Perché in quel momento la Marvel non c'era ma nei fumetti c'è Quindi è tutta una cavolata L'immagine è viva come tutti gli altri membri dei sette Lo scienziato sappiamo che è vivo perché negli audio Dove abbiamo fatto le sfide dei giurati qualche giorno fa Magari ogni tanto vi metto degli audio qui Abbiamo saputo che lo scienziato è vivo E lo stanno torturando Gli stanno facendo cose orribili Automaticamente possiamo capire e pensare Che sia Origine che il visitatore Visto che erano anche loro sotto controllo dell'Araldo Siano ancora vivi Contando che potrebbe essere che L'Araldo sia non morto L'Araldo non è morto però Potrebbe aver perso diciamo il suo potere del cromo E quindi si sono liberati E però lo stanno... Cioè grazie agli audio abbiamo scoperto Che gli stanno facendo cose orribili Paradigma Non si è più saputo nulla dopo l'evento Quindi dovrebbe essere anche lei stata catturata E ora vi dico da chi Stessa cosa per Fondazione Fondazione è stato già catturato da tempo Già prima del cromo Prima dell'arrivo del cromo era stato catturato E Jones pure non si sa dov'è Perché alla fine della scorsa season Si luce era negli audio Delle missioni storia Ma adesso no All'inizio in teoria della season si Ora no Quindi ragazzi bisogna capire anche lui Che fine ha fatto In teoria però Solo i sette sono stati catturati Abbiamo visto l'immagine ragazzi Dei sette Delle sette stelle Che sono proprio i sette E vi ho detto Che sono stati catturati Secondo me ragazzi Sono stati catturati Dall'ultima realtà Precisamente Se vogliamo dirla tutta Secondo me Dal nulla Il nulla fa parte dell'ultima realtà Quindi Il nulla che ci ha Portato avanti Nella scorsa stagione Negli scorsi mesi Tra settembre E dicembre Il nulla Ve lo ricordate? Questo nulla Le missioni di Byte Con la tv Che parlava Ve lo ricordate? Ecco Ora Potrebbero essere Veramente Stati catturati Visto che Amy ha detto Che lo scienziato Sta subendo cose brutte E Degli altri non si sa nulla Però ragazzi Ci rimane Cioè siamo noi E Amy È dall'ultimo aggiornamento Che ci sono viste Quindi magari Sono riusciti a scappare Dal nulla Quindi il nulla Lo vedremo In sto capitolo ragazzi Lo vedremo Secondo me Il nulla è proprio nulla Bisogna capire che cos'è Però secondo me Affronteremo il nulla In questo capitolo Credo alla fine del capitolo Ovviamente Quindi Bisogna aspettare Ancora un bel po' Sperando che questo capitolo Non duri un anno Ma duri un po' di più E ragazzi Vediamo Perché secondo me Potrebbero magari Tornare i sette Verso fine stagione Sperando che ce lo facciamo vedere Con un trailer Con un video Con un qualcosa Perché altrimenti C'è scandaloso E La prossima stagione Potrebbe essere Guerra Tra Una battaglia Tra i sette E i giurati Ci potrebbe stare Mi piacerebbe Perché i giurati Alla fine sono tipo L'ordine immaginario Ma Antico Quindi ci potrebbe stare Una roba del genere Vedremo ragazzi La season 2 dello scorso capitolo A me è piaciuta molto Con la battaglia Tra i sette E l'ordine immaginario Vediamo cosa succederà Io sono veramente In hype Per Per quello che sarà Succedere Per quello che succederà Per quello che sta succedendo Perché I sette Sono Tra l'altro i sette Sono tutti nel mio armadietto Tranne uno purtroppo Vabbè I sette sono lì Sono quelle stelle lì E quindi Vediamo Vediamo Ora vi faccio anche Ascoltare degli audio Delle missioni E Secondo voi ragazzi Cosa succede Cosa sta succedendo I sette Secondo voi torneranno Fatemi sapere la vostra Qui sotto Con un commento Perché secondo me Torneranno Sono magari scappati Dal nulla Se era il nulla Che li teneva Sono comunque scappati Da quel Da qualcosa Che venivano tenuti Cioè quindi Se sono stati Intrappolati Dal nulla Sono comunque scappati Se sono stati Intrappolati Dall'araldo Sono scappati Se sono stati Intrappolati Da L'ultima realtà In generale Comunque In qualsiasi modo Secondo me Sono scappati E stanno tornando Sull'isola Perché sanno Che l'isola Siccome l'ha creata Paradigma Con la fusione zero L'ho finitato Sa che cos'è la fusione zero Tutta Stessa cosa Tutti gli altri Secondo me Stanno tornando Ed è bello Cioè Secondo me È meglio Perché qualcuno di voi Potrebbe dire È male Ma se facessero Un'altra season A tema Sette contro I giurati Magari O contro L'ordine immaginario Contro chi volete Comunque I sette Contro un'altra fazione Cioè Ci potrebbe stare Però è ripetitiva Potreste dirmi È vero Ma ragazzi Ovvio Se fanno sette Contro l'ordine immaginario È ripetitiva Perché la scorsa season 2 Era così La season 2 Del capitolo 3 Però una Diciamo Perché quella era proprio Una season a tema guerra Se rifanno il tema guerra Vuol dire che devono rimettere Tutte le armi Di quella season Tutti i carri armati I cosi blindati No No Se non è proprio uguale Mi piacerebbe Ma no Secondo me Potrebbero fare una battaglia Quindi non proprio una guerra Per il punto zero Una battaglia Anche magari per il punto zero Tra i sette E i giurati Mi piacerebbe Perché approfondiremo Approfondiremo Si può dire? No Vabbè Perché potremmo Approfondire meglio I giurati Perché non sappiamo Nulla dei giurati Potremmo capire meglio Sulla temporale Su Geno Perché la temporale Ragazzi Anche lui Non è che sappiamo molto Eh Della temporale Quindi Mi piacerebbe anche Di lui capire qualcosa Sappiamo che è la copia di Geno Ma non sappiamo altro Di fondazione Non sappiamo tutto Di immagine e ordine Non sappiamo praticamente nulla Anche Jones Ci deve rivelare un po' qualcosa Anche lo scienziato Origine e paradigma Ragazzi Non sappiamo Non sappiamo Tutto di tutti Anzi Non sappiamo tutto di nessuno Quindi Sarebbe bello Una season Però devono spiegare Tutto Tutto Vedremo ragazzi Cosa succederà Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Ti vedete la campanellina Vi faccio ascoltare degli audio Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella C'è per il secondo Aspetta cosa Di cosa stai No Non può essere Lo troverai Ma arriverai in tempo Per salvarlo Il barco di prova Ha localizzato lo scienziato E gli sta accadendo qualcosa di orribile Grazie